MediClub Sicilia presenta SanitCard, il primo circuito di professionisti legato esclusivamente al mondo della salute. Con SanitCard, a soli 36 euro l'anno per nucleo familiare, puoi usufruire di servizi a prezzi scontati presso studi medici, laboratori di analisi, centri di radiologia, farmacie, centri di benessere, centri di riabilitazione e tanto altro ancora. Visita il nostro sito per conoscere chi è già convenzionato e verificare tu stesso i vantaggi. SanitCard, il circuito della tua salute.